Siamo qui, ancora si è del tempo, siamo in via Vittorio Emanuele 124 Qui ci sono tutti i giochi Salute, salute Buonasera, buonasera Ancora si è del tempo, Vittorio Emanuele 124, paterno Insieme si può, insieme si deve Portate i vostri bimbi e avranno in omaggio un giocattolo Tra 48 ore e Natale ci saranno dei sorteggi Ci sarà animazione e ci sarà anche da bagnare Perché cazzo è bagnare per i bambini No, ma anche io che sono piccolo Perfetto, è piccolo Vi aspettiamo qui Vittorio Emanuele 124, paterno Vi aspettiamo, già siete in tanti Ma vi aspettiamo ancora più numerosi Vi spieghiamo un attimino Adesso lo spiego un attimino di nuovo Tutti i bimbi che sono qui Potranno prendere in maniera gratuita Qualsiasi gioco vedono le tette Le mamme Verranno qui in console E verrà consegnato un numerino Perché mamme, nonni Il sorteggio lo devi fare tutto Il sorteggio lo faccio io Che sono belle queste cose Vi aspettiamo qua Via Vittorio Emanuele 124 Affrettatevi perché giochi ci sono Quindi noi siamo qua Affrettatevi perché giochi ci sono